Con 6 milioni e 200 mila euro la Giunta Provinciale finanzia il programma di IDM sui Troll Alto Adige per promuovere l'innovazione delle imprese. Abbiamo definito anche gli obiettivi principali che si muovono dentro la strategia RIS 3 dell'Unione Europea, la Smart Specialization Strategy dell'Unione, dove sono definiti ben anche gli obiettivi primari e oggi abbiamo anche posto degli obiettivi precisi per IDM, noi vogliamo che IDM quest'anno superi per la prima volta la soglia di 1.100 imprese che sono accompagnate nella loro attività di innovazione. Ancora prima della fine dell'anno in corso i pagamenti effettuati dalla provincia superano di 300 milioni il volume complessivo del 2016. Il patto di stabilità impone lo slittamento della liquidazione di alcuni contributi al 2018. Con il prossimo anno la situazione cambierà radicalmente. L'anno prossimo, ripeto, il problema non si presenterà più, potremo pagare quanto ci permette il bilancio, cioè fino ai limiti di bilancio perché il patto finisce quest'anno e l'anno prossimo le regole sono diverse. Finalmente, e questo è anche un risultato, questo va sottolineato, un risultato del nostro accordo finanziario con Roma, proprio il fatto che dall'anno prossimo in poi il patto non sarà più applicato perché noi siamo virtuosi, non abbiamo debiti, abbiamo sempre rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio e per quello dall'anno prossimo in poi saremo, per così dire, liberi per quanto riguarda questi pagamenti, liberi fino al limite ovviamente del pareggio di bilancio e questo è giusto che sia così. Raddoppio Merano-Bolzano, barriere in Val Venosta, parcheggio a Ponte Adige, via libera della giunta al programma STA da 3 milioni e 200 mila euro. Si tratta di tante piccole opere nelle varie stazioni ferroviarie, nelle varie fermate ferroviarie per eliminare anche delle barriere architettoniche, per farle diciamo più belle e ovviamente anche più accessibili per l'utenza. Confermati i contributi da parte della provincia di Bolzano per coloro che acquistano auto elettriche o ibride, stabiliti i criteri per velocizzare l'erogazione dei vari importi. Grazie a tutti.